Campionato già visto praticamente, l'Inter che va un po' in fuga, l'unica a seguire è il Milan, dietro un cespuglio, un gruppetto di squadre, l'abbiamo già visto, sembra davvero il campionato di l'anno scorso. Domani parliamo appunto sul campionato, si parlerà delle otto sorelle, tutte le squadre le più importanti, daremo un'occhiata alla zona della successione, vi dirò chi è la mia favorita, la favorita per i quattro posti, per l'Europa League, sapete insomma quello, non perdetevi, iscrivetevi se non siete iscritti e mettete la campanella. Milan, Milan deve dire grazie a che sì, Milan deve dire grazie a che sì, perché questa partita era rognosa, difficile, l'Empoli gioca bene, sono tanti, sono elettrici quelli dell'Empoli, eppure il Milan, ho visto un po' del Milan dell'anno scorso, e il Milan più oggi ha fatto giocare che era più in forma fisica, quindi si è un po' tolto, cioè ha conservato lo schema, però ha cambiato i giocatori, ha avuto il coraggio di mettere Chessi più avanti, ha cambiato qualcosa. Pioli non è stupido, Pioli ha capito che le sconfitte erano anche un po' colpa sua, anzi no, molto colpa sua ultimamente, e secondo me si è fatto una sua bella riunione tecnica con i suoi collaboratori, hanno deciso di fare questa mossa qua, è una mossa importante questa, di cambiare qualcosa, l'ha cambiata e è riuscita, perché fare quattro golle a Empoli, attenzione non è facile, non è facile, non li faranno tutti questi quattro golle a Empoli, e quindi il Milan adesso si va a mettere in questa sosta con un po' di rammarico, perché un po' di rammarico il Milan ce l'avrà per come è andata, è la sette punti di vantaggio dall'Inter, però tutto sommato è la fine del girone di andata, si trova vicino all'Inter, si trova a quattro punti dall'Inter, non c'è una voragine, c'è una partita già di svantaggio, quello sicuramente, ma non c'è una voragine, a secondo di come ritorna dalla sosta, il Milan potrà dire a se stesso, io lotto per lo scudetto, io non lotto per lo scudetto, c'è l'orizzonte che si creerà il Milan, se lo creerà il Milan, dopo questa vittoria non è un Milan attardato a sette punti, il Giusti a quattro punti, la Champions è abbastanza assicurata, però deve incominciare a correre, deve incominciare di nuovo a correre, questa sosta deve aiutare in questo, di recuperare qualche giocatore, se lo recupera, io sono convinto, anche perché a me fa piacere essendo interista, sono convinto che l'Inter sia ancora più forte, abbia ancora tante cose in più da dire, però l'Inter ha anche la Champions League, ha già due partite in più, più una di Supercoppa sono già tre partite in più, e credo che gli rimangano 23, mentre al Milan gli rimangano 19, una cosa del genere, levando la Coppa Italia, non sappiamo come andranno avanti, e ripeto, una vittoria che per il Milan credo che sia un gran bel toccasana, perché c'erano tutti i presupposti per fare male ad Empoli, c'erano tutti i presupposti per andare in questa sosta col muso lungo, lunghissimo, e devo dire che una vittoria del genere, una vittoria così, ti fa galleggiare nella tranquillità, ti fa appoggi te stesso nella tranquillità, anche per i tifosi stessi, dopo sono sicuro che quello che penseranno, va bene l'Inter è là davanti, tenteremo di raggiungerla, dopo vedendo quello che hanno fatto le altre, perché la Roma ha rallentato, il Napoli ha rallentato, la Fiorentina ha rallentato, guardate che questi tre punti sono molto pesanti anche in ottica Champions, in ottica Champions il Milan, il Milan l'anno scorso, con tutto che ha fatto un campionato di teste, è arrivata all'ultima partita a giocarsi la Champions League, cioè se il Milan è stato in Champions quest'anno, è proprio per l'ultima partita vinta a Bergamo, Io sono convinto che A non ci vuole arrivare a quel punto, e B vuole arrivare al punto che comunque la conferma questa Champions, e ripeto, se si va a vedere quello che è successo alle altre squadre, questa è una vittoria abbastanza fondamentale, attenzione Maignan, attenzione al portiere, è da un po' di tempo che molti pensano e dicono che Maignan dopo l'infortunio non sta facendo bene, e io incomincio a vedere queste crepe in questo portiere, mi sembrava più forte, pensavo fosse più forte, sono curioso di vedere che cosa farà nel giurone di ritorno, ragazzi domani, punto sul campionato, parleremo di tutte e otto sorelle, iniziando dalla Lazio e finendo con l'Inter, si parlerà di tutti, tutte queste squadre, un occhio alla zona di retrocessione velocemente, vi dirò quali secondo me sono i favoriti, ma quello per il Champions, per la vittoria finale, ma quello che è più importante è questo canale, questa sosta, diciamo questa sosta, faremo tante, tante cose, ci sono tante rubriche, piccole rubriche o grosse rubriche pronte, c'è la simulazione, c'è tanto, parleremo tanto, quindi iscrivetevi, 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 campanella se siete già iscritti, alla prossima, mettete like, ciao ragazzi! Grazie!